La signora prova! La signora prova! Ma chi l'ha chiamata? Ma nessuno! Signora, che ascolti, non la faccia entrare per nessun motivo! Non deve entrare assolutamente! Dovete impedirglielo in tutti i modi! Se lui la trovasse qua penserebbe immediatamente a un agguato! Per pietà, per pietà! Lo dica a tutti, signor consigliere! Signora, io le dico che deve ritirarsi subito perché lei qui ora non ci può stare! Nel terzo atto arriva, come in tutti i film americani, il super test. Cioè l'ultimo, il terzo, quello che dovrà determinare la verità o dell'uno o dell'altro sospettato. Cos'altro possono volere da me? Dopo questo... Lorsignori! Allora io ti posso dire... Senti che vuole parlare... Ti vuole dire qualche cosa? Un braccio di vera... 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 Grazie a tutti.